L'acqua come liquido simbolico e amniotico, origine della vita, spettatore della storia, degli eventi, di cataclismi e rigenerazioni. È proprio l'oro blu, la coprotagonista, accanto a Leonardo da Vinci, della grande mostra allestita al castello di Masnago, inaugurazione sabato 25 maggio alle 16.30. Partendo dalla Genesi, passando per le prime considerazioni poetiche legate all'acqua introdotte da Dante nella Divina Commedia, l'esposizione conduce poi al genio Vinciano, con vere e proprie chicche, a cominciare dai suoi tacquini e diari di viaggio. Questi qui sono dei manoscritti di Leonardo, che si trovano all'Istituto de France a Parigi, si trovano a Londra, questo qui è un codice trivulziano. Questi libretti qui sono molto, molto, molto interessanti, perché lui quando andava in giro a cavallo sulla carrozza, non è che c'erano i computer, e questi se li metteva, come si dice, in saccoccia. E su questi librettini lui ci scriveva di tutto e di più tutte le sue curiosità, tutto quello che vedeva. Ed è bello da vedere, in quanto poi, come in questa pagina, che si scrive da destra a sinistra, e all'incontrario, per non spiegare come questa barchetta, che se noi la giriamo, come questa barchetta in funzione del vento riesce a camminare. Anche come questa ruota di un mulino, che c'è l'acqua che scende, si vede che gira, insomma. Così pure questa macchina che per alzare i pesi. Sono cose in miniatura, molto piccole, basta vedere la mia mano, e questo è grande quanto un pacchetto di sigarette. Spiccano ovunque la sua straordinaria preparazione in qualsiasi ambito, la maestria del disegno, l'inconfondibile scrittura rovesciata. Lui qui scriveva di tutto. Vedete la scritta da destra a sinistra, no? Insomma, un appuntamento da non perdere. Questa mostra, nell'anno dei 500 anni della morte di Leonardo, vuole parlare di acqua, il cominciamento dalle acque, partendo dalle origini, ciò vuol dire dalla Genesi, per avere un'acqua spirituale creata da Dio, per i credenti. Poi passiamo al 1300, dove incontriamo Dante, dove troviamo l'acqua nella commedia dantesca, nelle tre cantiche, dove Dante affronta il problema anche naturalistico, il primo nella storia da affrontare il problema della natura dal punto di vista poetico. Per poi passare, 200 anni dopo, nel 500, con Leonardo, che affronta la tematica dell'acqua, vista dal punto di vista scientifico.